I wish Yanis would stop doing the WoW Man, you know what? WoW Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gian di My2Cup Italia e oggi vi porto un altro gameplay targato 75th ragazzi, 75esimo anniversario, Giannis del Tocumpo A GC Please, welcome Giannino, from Greece, Greek Freak Raga, allora, carta clamorosa, assolutamente clamorosa Tiro a 3 punti Gli ho messo una scarpettina per aumentare, tiro a 3 punti, 73 più coach, il più generale in campo, arriva vicino agli 80 schiacciata l'entrata, 93, controllo palla 88 stoppato 88, ruba difesa sopra il 90 velocità con la palla, 90, accelerazione 93 gli ho messo questa scarpetta call poi gli ho messo pure i badge perché quello del 75esimo si possono mettere anche badge del tiro qualsiasi badge si può aumentare gli ho messo cecchino e partenza rapida sì, cecchino e partenza rapida allora ho messo prendi e tira, paraocchi, controllo perfetto e tiratore scelto ho messo questo eccolo lì Giannino, bingo anche in partita in game segna, segna raga never miss rilascio velocissimo perché veramente gli ho messo un rilascio veramente veloce quest'anno è amoroso se mi sbaglia mai ehi, Giannino tutto più un po' palleggio anche benino raga c'ha palleggio così Giannino bella cartina raga bello behind e poi c'ha le sue schiacciate c'ha questa qua che è come quella che c'ha Durant andiamo a vedere i palleggi dribble style c'ha questo è bugato ho pensato che lo facesse più veloce sotto le gambe bello dietro la schiena andiamo a provare il limit Milo shit bro Jamal Murray Mitch Richmond Carmelo Anthony Nicola Jokic e la Marcus Rodriguez raga si capisce proprio qua che c'è veramente un bel po' di gente che ha cominciato a giocare in questi giorni qua perché secondo me questa gente qua maietta nera come al solito evviva il cavarsi gli occhi prendila di vedete raga è proprio io uso tanto per fa' pu 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 cioè faccio tanto pu 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 capito perché comunque braccia lunghissime defense eh bravo bravissimo è nostra raga poi rimbalzi di prendere tutti lui eccolo lì guarda qua va una partita in contropiede bam altro assist big green Paolo Giorgio and full white good D good defense let's go forza partire Gagliato ho visto I see you bro yes per mettere punti per geninato dopo un po' raga va sicuro che tira 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 si bello rimbalzo di di robo ancora transizione offensiva Giannino Kelly Thompson pulito giocatore in post 5 per iaia 522 raga triple double in arrivo eh solo triple double si Paul Giorgio si Paolo Giorgio con calma con calma con calma con calma yes sir si Gagliato 4-3 big green Gagliato Gagliato cosa fa? attenzione Gagliato Gagliato Giannino altro match Quittina si vola raga in casa raga in casa raga ma chi è? ma chi è? Brian Reeves payday collo Gagliato eh beh eh si 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 che gente mi trova? oh ma forca ma che gameplay mi faccio io in questa maniera qua? cioè voglio voglio che mi sanguino negli occhi raga ma che cazzo i gameplay sono? no paleri rarper cioè sto qua però cominciando veramente raga no no lascia dire adesso eccolo lì Yaya con la steed showtime eiii come al solito questa tosse che mi accompagna in questi venti giorni lunghissimi incredibile raga non mi va più via e non mi va più via non mi va più via non mi va più via la malattia dai oh che cazzo sta a fa' questo? però c'ha bay eh è un po' ambigua la cosa e bay comunque non ce l'hanno tutti oddio big green oh mio dio che spezza caviglie johnny wall nostra john isaac nell'angolo big green in arrivo johnny in l'altro punto yes sir johnny aia si goody goody dear rob what a beautiful defense banger how to time out nostra ah si john isaac with the steel è in showtime eiii valla e ci stava la posterizzata ho un po' di difficoltà a segnare con giannino e schiacciate con la levetta bella merda di roba altro rebound john wall specialista 3 bang full white ancora con giannino eh c'è proprio una base che finestra verde incredibile giannino fuori bello buona mia buona mia janis big three james harden big shot 40 40 13 no mostra maiaia goody goody yes sir yes sir payton i see you bro i see you goody goody bro box 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 transizione la baseball big three che ripeto ribato rilascio good rebound josh big three dai 9 metri tiro da 4 punti per prepararci al clutch time nuova nuova modalità della season 3 clutch time big up for my boy 2k fallo su giannino prevedo un quit timeout vediamo se quitta vediamo se quitta con sotto la musichetta eccellente ti rilenco tiro non quitta raga non funza 50 19 combattuta sta partita giannino giannino stoppato forzato forse il primo tiro forzato per giannino in maniera clamorosa eh gliela ridà però a robinson giannino giannino big green 28 madonna jaya quante parli recuperate ha fatto bella 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 ci sarà l'uomo libero peccato è la gubd bella bella difesa raga eh si C'è qualcuno che mi continua a dire mettilo centro, mettilo centro Giannino ancora, BigTree, Gianni Sadocopo, BigGreen Oh mio Dio che parte da lui James Harden, B3, BigTime, BigShot, James Harden, presto, anche il gameplay di James Harden Buongiorno, ultima, The Last Shot, 56 Giannino, a 25 Tabellino, Gianni Sadocopo, il mio, 20 minuti, 56 punti, 4 rimbalzi, 6 assist, 9 palle recuperate Una palla persa, 10 su 14 da 3 punti Ma che è Steph Curry? Mamma mia 74 punti di punti generati Plus mai un imbarazzante Gianni Sadocopo, raga Per me, power forward, barra centro Più forte che c'è Raga, secondo me è una delle carte più game changer per adesso uscite Veramente Giannis ha svoltato Ma quando è uscita sta carta qua Effettivamente GG Andiamo a vedere, oggi è venerdì Mattina Voglio vedere un attimino quanto sta sta carta qua 7, 9, 2, 3 minuti Probabilmente se fai un'offerta a 7,92 va ancora alta Quindi è ancora intorno agli 800-900k Io ho pagato anche io su quella cifra lì Si è abbassato molto il Mystic Quindi Però io Se vi piace come carta Io vi consiglio il 75 Dipende quanti soldi avete Purtroppo Arriva il venerdì che escono le carte E c'è sempre una carta del set Che costa sopra 10 milioni Quindi per adesso il mercato è veramente Non è per tutti Non lo so ragazzi Io spero che vi sia piaciuto questo gameplay Fra poco vi farò uscire Pure il gameplay di James Harden Perché comunque è una carta che mi piace È una carta che è veramente forte Vi consiglio Jonathan Isaac 1600k Spesi benissimo Difende Corre Palleggia bene Tira È una carta completa Molto utile per i limiti e soprattutto Requisiti del limite Mi sembra 3 diamanti rosa E tutti i rubini O inferiori No friege Mi sembra una cosa del genere E vi consiglio pure di fare tanto limite Grazie mille per l'attenzione Buona giornata ragazzi